La nuova Canon Powershot G1X è dotata di un corpo solidissimo e compatto, arricchito da un ampio display orientabile da 3 pollici, che consente di scattare foto ma soprattutto registrare video con grande flessibilità di inquadratura. La Canon Powershot G1X è dotata di un obiettivo 15,1-60,4 mm con zoom 4x, a cui si abbinano un sensore d'immagine CMOS da 14 megapixel ed il processore d'immagine Digic 5 per ottenere scatti di estrema qualità. I filmati possono essere registrati in qualità Full HD a 24 frame per secondo, con zoom ottico e audio stereo. Sul corpo del dispositivo l'apposita porta HDMI permette di collegare la fotocamera ad una TV e gustare ogni contenuto direttamente dal divano di casa propria. Powershot G1X è davvero facile da utilizzare. La modalità smart integrata interfaccia i diversi sensori per ottenere un perfetto bilanciamento di luminosità e colori anche negli scatti più difficili, ottenendo prestazioni eccellenti in ogni condizione. A questo si aggiungono tutti i controlli manuali per personalizzare al massimo ogni ripresa. Il controllo totale è garantito dall'apposita ghiera di compensazione dell'esposizione ai controlli anteriori e posteriori. Non possiamo inoltre non citare la modalità HDR ed il filtro ND a 3 stop integrato che consente di utilizzare aperture più ampie in condizioni di elevata luminosità. Canon Powershot G1X si dimostra un dispositivo molto valido, ideale per i neofiti ma anche per chi fa della fotografia la propria fonte di lavoro.